Il coordinamento emergenza valibreta che si è appena insediato oggi è qui a Nereto per presentare il primo corso base di protezione civile. Esatto, è uno dei primi obiettivi. Il coordinamento si preoccupa di formare le persone che poi saranno capaci di poter essere efficaci nel momento dell'emergenza. Quindi a Nereto faremo il primo corso base. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare dai maggiorenni, quindi 18 anni, fino ai 50-60 anni. Chiunque si sente in grado di dare una mano. Questo corso è importante perché a Nereto non c'è ancora una protezione civile. Esatto, noi abbiamo un pochettino colto l'esigenza di questo territorio della Val Vibrata che qui a Nereto, che è un punto strategico importante, non è presente una protezione civile propria. Diversi cittadini ci hanno fatto questa richiesta e abbiamo appoggiato l'idea. L'amministrazione di Nereto ha dato corso a delle richieste che ci sono state per i cittadini di iniziare un percorso di costituzione della protezione civile. Questo necessariamente deve passare attraverso dei corsi. Abbiamo chiesto al coordinamento emergenza Val Vibrata di poterlo organizzare e costituire. Oggi è l'inizio. Poi i cittadini, credo che risponderanno, Nereto lavora molto sul volontariato, lavora molto su queste sensibilità. Quindi io spero che i cittadini aderiscano a questo corso, poi proseguirà la costituzione della protezione civile. E auspico, e auspichiamo come amministrazione, che si faccia parte di tutto questo coordinamento. Il principio del coordinamento mi sembra un principio valido, di unirsi, unire le forze, tentare più possibile di fare rete in Val Vibrata, anche su questo settore molto importante. Quando partirà il corso? Il corso partirà il 4 aprile alle 8.30. Le adesioni potranno essere già prese e quindi chiunque vuole può trovare la locandina, ci sarà un numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica e mandare la propria adesione. E dove si svolgerà? Lo faremo qui a Nereto, nella sala Allende. Comincerà praticamente tutto il mese di luglio, sarà impegnato il lunedì e il giovedì. L'esercitazione finale è il 30 aprile in piazza Cavour.